E procurando il giusto benessere alle proprie famiglie, promuovano il progresso dell'intera società a lode della Tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore benedica voi, le vostre attività, le vostre macchine, tutto quello che coopera al vostro lavoro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora ci portiamo in chiesa e ricordo che durante la celebrazione, anzi al termine della celebrazione, dopo la comunione, a tutti quelli che sono qui con i trattori, tutti gli agricoltori, verrete verso l'altare e vi daremo un segno, un portachiavi con l'immagine di San Benedetto e con la preghiera. Quindi vi aspettiamo tutti in chiesa. Siamo qui con l'assessore Alberto Canobbio, tra le tante cose assessore anche dell'agricoltura, al quale chiediamo anche l'agricoltura oggi, come gran parte dei lavori, ha un aspetto burocratico, amministrativo importante e anche difficile da gestire. Ecco, qual è il tuo compito in tal senso per facilitare il lavoro dei nostri agricoltori? Allora, mettiamo già in chiaro che a livello amministrativo l'assessore ha un'attività che ha ben poche possibilità di interferire e di avviare perché non è un legislatore. Quello che deve fare l'assessore, nel mio caso, è cercare di portare a conoscenza le informazioni che vengono date dalle varie istituzioni superiori a noi, regione, governo e Europa, alle nostre aziende in maniera da poterle aiutare a fare tutti quei passi che servono per andare nella direzione che danno le ordinanze e la legislazione. Questo è il nostro compito, cercare di informare soprattutto anche non solo le aziende ma anche possibilmente anche la cittadinanza su quello che viene legiferato a livello superiore al nostro. Perfetto, grazie. Invece per quanto riguarda l'aspetto più tradizionale del lavoro agricolo, si dice spesso che la terra è basso, almeno lo si diceva una volta, però anche guardandoci intorno la tecnologia forse ha anche aiutato con gli anni a facilitare certi aspetti del lavoro. È un lavoro oggi, il lavoro degli agricoltori, un lavoro più facile, facilissimo oppure bisogna fare qualche sprecisazione? Allora, torniamo ancora, ribadisco, la terra è bassa. È sempre bassa. Quindi sicuramente il progresso, la meccanizzazione, la tecnologia ci sta aiutando. Però soprattutto anche nei lavori, chi ha per esempio degli allevamenti zootecnici, la manualità è ancora in primo posto se si vuole lavorare in un certo modo e per avere certi risultati. Perché purtroppo la manualità è sempre quella che serve per fare la differenza. L'uomo giustamente approfitta della tecnologia e della meccanizzazione, ma dopo se devi fare un lavoro è come un artista che fa un'opera, però alla fine serve sempre il colpo d'occhio e la manualità giusta per avere risultati. Impegno e olio di gomito? Quello sempre. Magari adesso più che olio di gomito, tanto impegno, la presenza. La presenza è soprattutto, ecco, quando c'è ancora da intervenire manualmente bisogna farlo. Perché le macchine arrivano un po' dappertutto, ma non da tutte le parti. Grazie mille e buona festa. Grazie anche a voi. Ciao, come ti chiami? Marco Canobbio. E che cosa fai di lavoro? Agricoltore, allevatore. Noi abbiamo delle vacche da latte con le quali produciamo il grana padano e basta. E da quanti anni lo fai? Lo faccio, sono nove anni e la mia azienda è composta da altri tre ragazzi giovani, mio fratello e altri miei due cugini, siamo tutti sotto i 30 anni e abbiamo deciso di condividere tutta questa passione che ci è stata tramandata da generazioni, dai nostri nonni e poi tramite i nostri genitori. Quindi, insomma, hai detto passione, quindi ti piace, cos'è l'aspetto che ti piace di più di questo lavoro? Ma è avere un rapporto, comunque dicono di no alla gente, ma io ho un rapporto con gli animali con cui lavoro tutti i giorni e dico ah, e poi perché credo che diamo una mano per dare una mano all'ambiente e a tenere la biodiversità nelle campagne e comunque anche tenendo solo pulite le rive, i fossili qua, con il nostro aiuto penso che anche magari un'elagazione potrebbe anche non esserci qua nelle nostre zone perché usando sempre i canali di irrigazione sono sempre puliti e riusciamo a far sfogare l'acqua. E' un contributo che va a tutto il paese? Eh sì, credo, dopo non so se sarà così, ognuno ha le sue idee penso. E perché sei qui? Per condividere un momento di festa, di gioia, per rendere, grazie a Dio di averci donato tutto questo, la natura, il mio lavoro, la mia passione e poi... questo insomma, grazie mille, buona festa. Buona festa a voi. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Giovanni Serafini. E che lavoro fai? Sono agricoltore da un bel po' di tempo, sono nato nel 1958, praticamente ho iniziato a fare agricoltore da subito, perché una volta si lavorava aiutando l'azienda, insomma, si è andati lì, in Cacina, e poi si andava a scuola anche, cioè si lavorava e poi si andava anche a scuola. E da un certo punto ho chiesto il mio pasto a casa a lavorare ormai, sono già qui. E da, penso, da 18 anni in poi ho sempre lavorato in azienda. Esperto, quindi, ormai del tuo lavoro. Eh sì. Ecco, cosa credi che possa insegnare il tuo lavoro a tutti e in particolare alle giovani generazioni? Ma io penso che bisogna fondare le nostre radici anche nel passato, cioè l'agricoltura è sempre stata legata al modello familiare di conduzione. Io sono sposato, vivo in Cacina con la mia famiglia, ho quattro figli. Poi, sai, se si perde questo ancoraggio, cioè la famiglia, il lavoro, così si perde un po' la dimensione che è stata sempre quella dell'agricoltura, cioè perché l'agricoltura noi siamo legati un po' al tempo, alle condizioni del tempo. bisogna, non bisogna mai imprecare quando succedono gli eventi atmosferici e così, perché fa parte della nostra dimensione, cioè possiamo fare le assicurazioni oggi, no? Ok, però ovviamente c'è sempre lo scotto da pagare, qualcosa da pagare, le malattie negli animali, rotture nelle macchine. Cose imprevedibili. Cose imprevedibili, cioè una rottura di una macchina costa anche 30, 40, 50 mila euro, cioè non è una rottura da poco. Però ovviamente fa parte del contesto del lavoro, così oggi c'è tanta soddisfazione lavorare, perché ovviamente hai tutte le macchine a disposizione che ti possano aiutare diminuendo il sacrificio, no? Chi specialmente ha fatto il sacrificio una volta, io vengo dall'epoca dove c'erano i cavalli, no? C'era tanta mano d'opera, il lavoro era un sacrificio continuo, cioè era... non avevamo neanche gli strumenti di lavoro, i guanti oggi, abbiamo i guanti, gli indumenti di lavoro. adeguati, una volta no, era una sofferenza unica per il freddo, per il caldo e così via. Beh, oggi, sai, siamo moderni anche noi. Più tecnologici. Cioè, più tecnologici, abbiamo i robot install, cioè la tecnologia satellitare per la semina, cioè è una dimensione che poi si è creata man mano, cioè non è che è arrivato il colpo. Cioè, anche noi abbiamo dovuto aggiornarci, studiare, capire gli eventi come succedevano, per stare ai tempi, come in tutti i settori, cioè non c'è niente di più, niente di meno. Poi, ai giovani, io penso che c'è tanta gioventù oggi che ha interesse nell'agricoltura, anche perché è questo misto di applicazione fisica, no? Tanta gente va in palestra per fare così, no? Non serve, guarda, vieni a lavorare in campagna che ti fai bei muscoli, le belle spalle, poi ha anche il tempo di andare in palestra per divertimento, quello ce l'hai sempre. E anche gli orari, sugli orari, anche quelli abbiamo recuperato tantissimo. Oggi si può programmare anche, sono dei momenti come adesso, il tempo è un po' ballerino, dobbiamo seminare, magari fai anche 3, 4, 15 ore nei giorni che puoi. Gli altri giorni fai ufficina, fai 7, 8 ore, 10 ore al massimo. Perfetto, ok, grazie. Un'altra domanda, io so che alla fine della celebrazione Don Davide vi darà un gadget ispirato alla figura del Santo Patrono della nostra unità pastorale, che è San Benedetto, il quale ha inventato la regola prega e lavora, ora et labora. Ecco, è tanti anni che fai questo lavoro, l'hai detto anche tu, l'hai visto anche cambiare, meglio, soprattutto. Allora, ho capito tutto, guarda, il mio modulo è questo, io mi alzo il mattino, metto su YouTube i frati di Assisi e faccio le lodi il mattino, non sempre tutte, perché magari c'è qualche notizia che mi interessa, guardo prima la notizia, cioè, seguo le lodi il mattino dei frati di Cosa, poi, seguo qualsiasi tema che sia legato a Dio, fede, anche nel mondo del lavoro, quello che succede negli Stati Uniti, in America, del Sud, in Asia, cioè tutti i contesti, ma che riguardano sempre lavoro e fede, comportamento delle persone, quello che succede, ma sempre legato alla fede. Quello lì è il mio quit, cioè io vivo per quello, per il resto si lavora. È una regola che ben si adatta al vostro stile di vita, o quantomeno al tuo. Capire i passi dei tempi, dove è che la fede oggi si incultura dentro la vita e il lavoro.